Cosa non si aspettavano gli scienziati di trovare su Plutone era un'atmosfera abbastanza complessa. Infatti con questa gravità così bassa difficilmente si può immaginare che questo oggetto potesse avere un'atmosfera. La nostra stessa luna ha un'abilità maggiore e non riesce a trattare un'atmosfera. Però questa è la foto che è riuscita a scattare la New Horizon quando è passata dietro il pianeta. Si è riuscita a osservare l'atmosfera di profilo. Il Sole si trova dietro il pianeta e la sua luce filtra attraverso la sua atmosfera. Perché la Luna che è più grande, ha una massa maggiore, una gravità maggiore, non riesce a trattare un'atmosfera mentre Plutone ha un'atmosfera che sembra abbastanza complessa. Perché a temperature così basse l'energia cinetica dei gas e quindi la sua velocità di fuga è molto bassa. Quindi un pianeta anche con bassa gravità può trattenere l'atmosfera se le temperature sono molto basse, altrimenti questa evaporerebbe nello spazio. E a queste temperature questa atmosfera riesce a essere abbastanza stabile, anche se poi come vedremo viene continuamente generata dal pianeta perché il pianeta di fatto sta evaporando. La composizione chimica di questa atmosfera è identica a quella della crosta del pianeta stesso. Infatti l'atmosfera è fatta di azoto, metano e anidicarbonica e guarda caso la crosta del pianeta è ricoperta da spessi depositi ghiacciati di metano, azoto e anidicarbonica. Quindi di fatto l'atmosfera è parte della crosta che evapora. E come è stato possibile osservare questa atmosfera? Quando la sonda ha attraversato la parte notturna del pianeta, quindi è passato dietro il pianeta utilizzandolo per oscurare il sole, ha osservato il calo della radiazione solare mentre questa attraversava strati sempre maggiori dell'atmosfera. E cosa è stato scoperto? Che l'atmosfera di Plutone è molto più spessa di quella terrestre. Questo perché, c'è un motivo su questo, perché la gravità così bassa di Plutone permette a questi gas di espandersi moltissimo nello spazio, mentre la gravità terrestre che è più forte impedisce alla sua atmosfera di espandersi troppo nello spazio e anzi la comprime il più possibile al suolo. E questa è una fortuna per noi, perché sicuramente è una garanzia affinché l'atmosfera rimanga stabile e non si perda nello spazio. Quindi Plutone ha un'atmosfera molto più spessa di quella terrestre, ma molto meno densa, ovvero c'è molto meno gas, ma distribuito in uno spazio molto maggiore, tanto che la pressione atmosferica in superficie al pianeta è almeno 100.000 volte di meno di quella che troviamo sulla superficie terrestre. Quindi questa atmosfera è molto diversa da quella a cui siamo abituati. Tanto che ad alta quota il metano si perde nello spazio, subisce una trasformazione chimica con la reazione solare e crea delle sostanze organiche che poi si depositano sui satelliti del pianeta stesso. Tant'è vero che troviamo enormi depositi rossastri di questa materia organica sui satelliti, in particolare su Caronte, che ha una calotta di ghiaccio rossastra, che vedremo in dettaglio a breve. Andiamo avanti e vediamo che la sonda ha anche misurato i venti sulla superficie. Questa è una mappa dei venti a un'altezza di 1000 metri dal suolo. E vediamo che questi venti trasportano metano, monossido di carbonio e azoto e, guarda caso, si vanno ad accumulare nelle zone depresse del pianeta. La zona depressa più interessante del pianeta è la Sputnik Planeta, che sarebbe una parte di questa grande struttura geologica a forma di cuore sul pianeta. Come vedremo, la sua evoluzione ha condizionato tutta la storia geologica del pianeta. Nel luglio del 2015, la navicella spaziale New Horizon della NASA ha sovvolato Plutone e ha rivelato di fatto un mondo ghiacciato attivo, con paesaggi senza precedenti nel sistema solare. Presenta vaste pianure ricoperte da brina e incredibili ghiacciai, composti da ghiaccio di azoto, metano e monossido di carbonio. E infatti non è un caso che l'atmosfera ha la stessa identica composizione. Quando il pianeta si avvicina troppo al Sole, parte di questa crosta evapora, aumentando lo spessore atmosferico. E quando si allontana, al contrario, l'atmosfera condensa e aumenta gli spessori di questi ghiacciai. Questi ghiacciai giacciono sotto un'atmosfera piena di nebbie organiche bluastre. Gli estremi si aspettano di trovare un'altra luna là fuori, invece hanno trovato un mondo ricco di fenomeni fisici e chimici molto interessanti. Andiamo avanti, vediamo ovviamente come le norme in creazione del pianeta espone i due emisferi in modo diverso a luce del Sole. E vediamo in questa mappa come il metano, cioè CH4 è il metano, si vada ad accumulare in zone particolari del pianeta. Per esempio al polo nord troviamo grandi percentuali di metano, mentre nella zona della Sputnik Planitia, che è questa grande depressione, ci sono queste nuvole di metano. Questo è interessante perché questa zona è ricca di grandi spessori di questo materiale congelato che, come vedremo, hanno destabilizzato l'asse del pianeta. L'evoluzione geologica di questa pianura ha condizionato poi la storia geologica di tutto quanto il mondo. Infatti c'è una ricerca su Nature, che vedremo a breve, che mostra come questa pianura e queste caratteristiche di accumulare forti depositi ghiacciati di materiali volatili e che poi abbia condizionato l'orientamento del pianeta stesso. Prima di passare a questa ricerca voglio farvi vedere cosa succede all'atmosfera nello spazio. Ho detto che quest'atmosfera è molto espansa nello spazio, ovviamente a un certo punto subisce radiazione solare e addirittura fuga dello spazio stesso, quindi di fatto l'atmosfera si sta perdendo nello spazio, e quest'atmosfera viene spazzata via dal vento solare. Una parte viene ionizzata, una parte no, creando una specie di coda. Infatti c'è una coda atmosferica, ovviamente allungata verso la parte notturna del pianeta, spazzata via dal sole, che è stata osservata. E questa nube avvolge tutte le lune del pianeta. Queste lune ruotano intorno al pianeta, immerse in questa vasta coda atmosferica che si sta disperdendo nel sistema solare esterno. Perché ci interessa questo? Perché sul polo nord di Caronte c'è questa grande macchia rossa. Questa macchia rossa sembra essere fatta da depositi organici provenienti da Plutone. Infatti il metano ad alta quota subisce radiazione solare che lo trasforma in molecole e composte organici più complessi e questi si depositano sulle lune. In particolare sul polo nord di Caronte, che di fatto è più freddo perché è il polo nord, si accumula questo materiale che poi in meno di anni ha creato questi forti spessori rossastri. Quindi questo materiale sembra un prodotto proveniente proprio da Plutone. In particolare, questo è il polo nord, quando la sonda è passata vicino alla Luna, il polo sud era immerso in oscurità, quindi non è stato possibile fotografarlo. Ma sicuramente gli scienziati immaginano che ci sia un equivalente calotta rossastra anche nel polo sud di Caronte. Andiamo avanti e vediamo come è fatto l'interno del pianeta. Studiando la densità del pianeta ovviamente molto bassa e la sua massa, gli scienziati hanno ipotizzato questa struttura. Una parte interna rocciosa, probabilmente è totalmente assente una componente metallica interna, poi un mantello di acqua ghiacciata e poi una crosta di azoto ghiacciato. Quindi vedete che la maggior parte della massa del pianeta è costituita da volatili congelati. Sono stati identificati cinque satelliti attorno al Plutone, uno molto grande è Caronte e gli altri praticamente molto piccoli. Caronte ha un diametro che è la metà di Plutone, mentre gli altri oggetti sono praticamente dell'ordine di qualche asteroide, sono molto piccoli, questi sono le sue lune. Questo è solamente un estratto della lezione completa su Plutone e i pianeti nani. Nella lezione completa spiegherò che cos'è un pianeta nano, ci sarà un ampio spazio dedicato alle ultime scoperte su Plutone, grazie alla sonda New Horizon che l'ha raggiunto nel 2015. Parlerò anche degli altri pianeti nani come Cerere, che è stato studiato recentemente dalla sonda Dawn, e appunto proprio la missione Dawn, che ha studiato i corpi minori della fascia degli asteroidi. Questo ed altro ancora nella lezione completa, la numero 15 del mio corso di astronomia, Plutone e i pianeti nani. Potete trovarla nel mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook, Prof Antonio Loiacono. Grazie.